Giovina Nasuti, presidente dell'associazione Altri Orizzonti ODB, insomma oggi un convegno importante con il quale si celebrano i 20 anni di questa associazione. Per quanto riguarda la salute mentale, quali sono gli obiettivi raggiunti dalla vostra associazione che è sempre stata presente sul territorio accanto a tutte le persone che vivono questo problema? La nostra oggi vuole essere una giornata di riflessione su quello che è la salute mentale perché parlare di salute mentale e parlarne soltanto quando capitano eventi dolorosi come anche è avvenuto negli ultimi tempi qua sul territorio di Lanciano e aditando subito riapriamo i manicomi, riapriamo, chiudiamoli, è molto facile. Invece bisogna capire che la salute mentale ha una sfaccettatura a volte anche invisibile, infatti la realtà dell'invisibile è una frase che ci fa e ci porta a riflettere su quanto possa essere invisibile il dolore di ognuno di noi e di quando ognuno di noi ha una sofferenza profonda e quindi guardare la salute mentale da un profilo anche positivo e pensare di aiutare l'altro, soprattutto tirar fuori dalla solitudine. Il Covid ha messo ancora più in risalto quando sia importante il poter rapportarsi con gli altri, la condivisione, quindi oggi è stato un momento di riflessione di tutto ciò che è stato fatto nel corso degli anni, grazie all'aiuto anche di tutte le persone a me vicine, ma di quando sia ancora oggi più importante in una fase così dolorosa che sta coinvolgendo a livello nazionale e internazionale, che possa essere un momento di ripartenza e di pensare e di rivedere quello che è la salute mentale nel giusto profilo, non semplicemente stigmatizzando ma cercando di accogliere la diversità che può essere di vario tipo. E' solo così che probabilmente riusciremo a convivere e forse a trovare una soluzione che poi la cerchiamo e magari ce l'abbiamo proprio a portata di mano e non lo sappiamo. Con la presenza dei giovani, degli studenti delle scuole di Lanciano, proprio per sensibilizzare su questo tema così delicato. Abbiamo voluto la presenza dei giovani perché i giovani sono il futuro, i giovani hanno bisogno mai come oggi di essere supportati e soprattutto le scuole, noi ci occupiamo della sofferenza mentale adulta, però ci siamo accorti che sempre più nella fase adolescenziale emergono delle sofferenze che molte volte rimangono inespressi, rimangono nell'oblio e quindi la presenza della scuola vuole essere un segnale di apertura e soprattutto di futuro. Dottoressa Tiziana Arista dell'Osservatorio della Salute Mentale Abruzzo, un tema delicato e quanto mai importante in questo periodo storico. Qual è la situazione in Abruzzo, soprattutto dopo il periodo dell'emergenza Covid, che sicuramente avrà accentuato, enfatizzato, quello che è il problema della salute mentale sul territorio? Se guardiamo la situazione della salute mentale rispetto a 20-30 anni fa, è migliorata. Se la guardiamo rispetto ai 3-4 anni che abbiamo alle spalle, in effetti sono emerse molte questioni, soprattutto nelle fasce adolescenziali e giovanili. La salute mentale si cura con la relazione e nel momento in cui la relazione viene meno, è impedita, è chiaro che la salute mentale si aggrava. Ora, tra i giovani e gli adolescenti è difficile che ci sia già una malattia conclamata, però ci possono essere ansie, disturbi, problemi, bullismi, situazioni di difficoltà dei ragazzi, che in un contesto relazionale, in famiglia, a scuola, nella società sano, maturo, consapevole, vengono piano piano sciolti, limitati e con la crescita, come si diceva prima, vabbè, l'adolescente, poi cresce, passano. Il problema è che se però durante questi anni non c'è un contesto sano, con una bella relazione in cui l'adolescente si trova a vivere, il rischio di una deriva in termini di malattia mentale è chiaro che stanno crescendo. Quindi questa è una situazione che dobbiamo assolutamente prendere di petto e occuparcene. Dottoressa, l'importanza della prevenzione, intervenire tempestivamente, essere vicini, immediatamente capire quali sono i campanelli d'allarme per evitare che poi si vada alla deriva? Quindi va fatta molta educazione con le famiglie, con le scuole, le scuole sono essenziali nel fare appunto come da antenna delle diverse situazioni, però, e poi ci vogliono anche strutture, per esempio, io raccontavo nel convegno che a 20 anni ho utilizzato lo sportello psicologico dell'Università La Sapienza, stiamo parlando di 52 anni fa, e scopro che adesso nelle scuole superiori, dove ci sono proprio le fasce a rischio, non ci sono gli sportelli psicologici, se non come fatti sperimentali. Ecco, quella per esempio è una cosa che si deve fare, si deve fare subito, perché non ci si può rimettere alle famiglie, delle volte le famiglie sono addirittura dei luoghi patogeni, ma anche quando non sono dei luoghi patogeni, possono essere, diciamo, non è facile, è difficilissimo intervenire su un figlio, la famiglia tende un pochino, insomma, a scappare un po' da questi problemi, che sono poi comunque difficili da affrontare, bisogna avere molte risorse per poterli affrontare bene, anche economiche, visto che oramai la sanità, diciamo, non è tutta effettivamente gratuita, no? Ci sono oramai tante situazioni nelle quali o te lo paghi il servizio o non lo ottieni, non sto parlando solo della salute mentale, e quindi ributtare sulla famiglia solo la questione non va bene. Chiaro che le famiglie, io sono una familiare, era anziana, quindi abbiamo un ruolo grandissimo, ma dobbiamo essere educati, dobbiamo fare, insomma, ci devono dire bene cosa dobbiamo fare, no? Ecco, noi associazioni dell'osservatorio regionale salute mentale, quindi insieme a Dinana Suti, insieme ad altri colleghi, stiamo cercando di fare questo, speriamo, insomma, di riuscire a farlo bene. Assessore alle politiche sociali e giovanili del comune di Lanciano, Cinzia Moroso, oggi questo momento di confronto e di riflessione su un tema molto delicato, quello della salute mentale, voluto dall'associazione altri orizzonti che da tanti anni opera, da vent'anni opera in questo campo. Sì, innanzitutto, come facente parte di questa amministrazione, mi sento veramente di ringraziare con tanto calore, con tanto orgoglio, questo tipo di iniziativa sul territorio. Altri orizzonti ha dato un segno tangibile di come si possa stare vicino alle persone, fra virgolette, invisibili, alle persone fragili. Il più grave disagio di questo periodo è la solitudine, è la disabilità mentale. Io devo ringraziare altri orizzonti perché mi ha fatto capire come si possa intervenire aiutando e stando più vicino come istituzione, aumentando l'integrazione sociosanitaria. Infatti è proprio questo il periodo in cui noi stiamo riscrivendo il piano sociale che verrà per il prossimo triennio, in cui abbiamo dato ascolto e abbiamo cercato di creare una rete con queste associazioni nel settore, perché sono proprio loro che ci danno il polso della situazione sul territorio. Inoltre mi sento di dire che sono anche assessore alle politiche giovanili, quindi è stato bellissimo vedere a questo convegno la presenza delle scuole, dei ragazzi, esprimere le loro perplessità, le loro domande, poter rispondere, poter dare una risposta concreta sul territorio. Ecco, penso che il ruolo della politica sia anche questo, stare soprattutto vicino ai giovani. Noi come amministrazione abbiamo già iniziato a dare qualche segnale, sia mandando degli educatori sul territorio in situazioni particolari di controllo, di dipendenze, sia a livello delle scuole con delle ore per il bullismo. Cercheremo chiaramente di rafforzare questi discorsi e di crearne anche altri.